Dopo 13 anni, per fortuna oggi si è realizzato il mio sogno, 13 anni di lotte, di perdita e di speranza più che altro, perché il parco comunque era completo, però per motivi di ristrutturazione, per motivi urbanistiche, riuscivano sempre a rinviare, a rinviare. Oggi finalmente si realizza il nostro sogno. Tina è la prima, insieme alla sua famiglia, ad aver abbandonato il degrado delle vele per trasferirsi nei nuovi alloggi assegnati dal comune. Da oggi avrà una casa accogliente, dotata di tutti i comfort e con un'aria giochi per i bambini. Come lei sono oltre un centinaio i legittimi assegnatari già pronti a traslocare nelle nuove abitazioni di piazza legalità tra via Gobetti e via Labriola, lasciandosi alle spalle quei palazzoni fatiscenti dove hanno vissuto per anni e che presto cadranno giù. I trasferimenti proseguiranno per circa tre settimane al ritmo di sette famiglie al giorno. Si consegna altri posto auto e cantinola di pertenenza. Posto auto identificato al numero 26, via Gobetti ed edificio B, scala C. Cantinola identificata, catastalmente, scafo, io due, particella, sub, metri quadrati, quattro, identificata al numero due. L'appartamento si presenta con finiture integre. Quella celeste sarà presidiata. Gli altri appartamenti nelle altre vele verranno invece tompagnati, distrutti, in un qualche modo resi inagibili. Soprattutto deve essere chiaro che chi entra esce anche. Ad eccezione di quella celeste, le tre vele sono oggetto di un piano di abbattimento che prenderà il via dalla prossima primavera. Un'impresa che mira la riqualificazione di Scampia e alla quale sono destinati complessivamente 48 milioni di euro. Ai 18 già stanziati dall'amministrazione comunale si aggiungono i 30 milioni del governo con la firma del patto per Napoli. Verso primavera dovremmo avere le risorse del governo, dopodiché procediamo immediatamente all'abbattimento. 2017 la vela verde va giù. L'importante è che questo quartiere cambi volto. Dopo 15 anni abbiamo nuove case, quindi un fatto storico che per quanto mi riguarda mi riempie di emozione, ci riempie di emozione come amministrazione. Cominciamo con le demolizioni e non ci fermiamo più. Scampia diventerà il luogo di un grande investimento per riqualificare questa parte di città e soprattutto per ristabilire un patto di cittadinanza che troppo spesso in questi luoghi è venuto meno. Grazie a tutti.